la nuova gioca con l'Empoli fuori di casa penso sia 2 fisico problema, può staccare Torino a più 3 caro con il maledetto Berardi magari era Nesvig 31 anni Nesvig 72 Pedro, ragazzi come sei? Grazie la prima che ho butto per terra la mia si la fresca no, vorrei messi Alberto Alberto è lui sperimentale si respira una atmosfera fantastica come vedete sulle tribune con i tifosi subito caldi un rivolto a scuola un saluto la piero di Pardo il terzo della 4 fortissimi in telecronaca torna la serie A porco de D promette la vere emozioni e spettacolo squadra a cassa della vittoria quest'oggi non possono permetterti un saluto i nostri amici a casa che la torre che vale solo una cosa per un ragazzo che tuffo nel portiere occhio al pallone in mezzo spedisce di poco alto con questa incornata girata quasi perfetta pierre la palla la vedi stava quasi per insaccarsi a fil di traversa ma c'è la manca che le via temple però si le mazzacate interrompe bene l'azione intercettando il lancio i tifosi sognano i gol di Ciro Immobile una che non si tira mai indietro è il pericolo pubblico numero uno per la partita di oggi non ha fatto altro che segnare gol a rai che cazzo il primo obiettivo della difesa avversaria sarà sicuramente quello di fermarlo ma non sarà affatto facile azione che sia interessante ottimo il ruolo del pallone cosa cazzo mi combini merda oh guarda Reina c'è la stragroscia qui avrete torre in aria non riesce a liberare palla ancora buona via sventa il pericolo oh Zaccani pallone invitante velico vissare occhio al contrario un metro devantaggio spedisce il pallone dove arriva da tolia velico vissi bellissimo vedi se non spieghi niente vai verso la bandierina un po' più metto a fare la foto 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 nini nini quanto sai? due hanno aperto anche mi è qui il setto dal 2007 a 13 anni si sa quelli dell'est sviluppano prima Berardi occhio e mezzo può cercare il cross senza problemi avanti della sua azione velico vissare palla gol per immobile attenzione salva tutto con questo intervento non è però da qui Ferrari il capitano ha deviato il pallone in out concedendo la tush la rimessa laterale felipe anderson pallone per immobile provano a creare gli spazi può metterla in mezzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che ti sei maniato è bravo mettetevi in faccia ma che era quella pozza no sembra di guadaneve vaga recupera la palla intercettando bene il pallone verardi hanno l'occasione attenzione domenico bellissimo domenico dove la mette cinchina bello ma come cazzo fai ma che ne so bellissimo però bello un po' una guaglia ha fatto Reina passa guarda andava andava messa si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone intercettando bene la traiettoria la squadra di casa ha tenuto di più la palla come sottolineato anche dal dato sul possesso ma i numeri non dicono tutto e infatti non stanno creando particolari pericoli dalle parti dell'area avversaria devono sfruttare meglio la loro supremazia territoriale la palla deve girare per risai a butto e mezzo per base con tutto il pallone che stiamo rivedendo hanno sorpreso la difesa mettendo palli che sarà facile facile ci può proprio terrarida arriva il finale di questa prima andiamo a chiudere è un po' sottodono è medievile è male prosegue spedito ancora può metterla in mezzo da lì è chiuso vediamo se inventa qualcosa c'è fuori gioco qui poteva andare in porta ma doveva scegliere meglio il tempo lo vede benissimo ha spazio sulla corsia primo tempo incoraggiante il suo giocato su livelli interessanti è stato grande lo è mobile però ti fa perdonare così cino finalmente coneri il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore l'ha poi messa alle spalle del portiere con un delizioso cucchiaio da pochi metri quarto gol della gara che fissa sul 3 a 1 il punteggio felipe anderson torna anche in difesa aveva cercato il tocco profondo ma non va e il portiere recupera il pallone questo attenzione perché è pericolo ho solo l'altra nella portiera hanno perso palla pure 2 tra le calcio protagonista sulle sequenze di ATV con questo match che promette spettacolo ne vincono una un'auto per nulla stanno bene in campo si vede nella mano del tecnico è un piacere vederle giocare domenico andiamo a chiudere esulta per la doppietta la pure moro il pupillo ci ha preso davvero gusto la doppietta di domenico adesso la suolo che c'è però piano piano sta esprimendo il proprio calcio siamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3 a 2 buono il contrasto recupera il pallone buona lettura dell'azione ha intercettato bene il passaggio può avanzare sulla corsia la può chiudere ha penetrato il giovane forse la giusta il suggerimento in verticale forse ha chiuso evidenziano bene queste immagini un gol facile facile ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto risultato adesso sul 4 a 2 ecco il tiro nessun problema qui tiro debole l'ha bloccato senza problemi era difficile pensare di fargli gol qui gran palla pericolo nooo porco ci aprono spazi invitanti portanti tenta il pallonetto non trattiene occhio alla possibilità tentativo ribattuto nessuno per l'arbitro tiro questo non te lo puoi mangiare non ti faccio più tirare possono chiudere il match con questo rigore ah lo rimane a tutti non tirerai più diventa milico che ci direi il tiratore scelto non vorrei essere nei suoi positivi ragazzi giurice i tv la casa del grande calcio che continua con un match davvero imperdibile pier non vedo davvero l'ora sono due squadre che giocano un calcio veloce votato all'attacco sono sicuro che ci divertiremo che chance clamorosa rifinze il primo tiro bella girata di testa sugli sviluppi del cross palla di poco sopra la traversa Felipe Anderson portiere senza problemi che sventa la minaccia e siamo entrati dunque negli ultimi due minuti può avvicinarsi alla porta dobbiamo avere il nostro giudizio azione che sfuma non c'è più tempo questa sconfitta che arriva forse ci hanno provato reggio tenua contro una squadra ragazzi in grande spolvero risultato che lo riscrizano